La frutta non è sempre stata così e continuerà a cambiare nel tempo. Per esempio, questi sono frutti della contemporaneità. Uno arriva dalla Francia, si chiama Estival. Questa è un'uva che arriva invece dalla Germania, selezionata in Germania. Ma senza le vecchie varietà di frutta non sarebbero arrivati a questa. Perché? Perché ibridano, ci provano. I caratteri buoni delle vecchie varietà di frutta li riutilizzano. Allora, se una mela è molto precoce, come è questa mela, che matura a inizio di agosto, perché non tenerla? Se questa uva che sa di moscato e ha un profumo buonissimo di moscato, si chiama Phoenix, c'entra niente, è un'uva moderna, se questa uva matura adesso e non ha bisogno di trattamenti, a casa mia nessuna pianta ha un trattamento, quindi quello che resiste bene tutto il resto viene eliminato. Se riesce a dare della magnifica uva in questo modo è perché hanno utilizzato il patrimonio genetico delle vecchie mele, delle vecchie uve. Quindi tutto quello che ci viene dal passato serve anche per il futuro. Non sono state mai così, non saranno mai più così.